Diviniamo quei conflitti, quelle divisioni, quelle di una città che, per carità, però abbiamo il cosiddetto fiacoporto, facciamo opere che poi mani in un trasto tra l'altro e facciamo sì che c'è qualche difficoltà, così come è previsto, in tre, quindi fino a quella data, noi vi siamo aspettati, così come questa sera, e vi ringrazio la vostra partecipazione, perché è necessario darsi coraggio, la squadra che abbiamo messo in campo, io veramente vorrei fare un applauso, perché è la squadra dei coraggiosi, la squadra dei coraggiosi, un applauso, un applauso, un applauso, un applauso, un applauso, un applauso di Stato a partecipare, abbiamo visto questo slogan, la bella, bellissima canzone di Giorgio Gatti, quindi se l'ascolterete su Instagram, dove volete, dice molte belle cose. Io ho terminato, l'elaborazione del programma, perciò dicevo, non è che a flash, è inserito nel contesto che vi dicevo. Grazie.